Ciao, io mi chiamo Luca Cristiani, ho 33 anni e vivo alla Spezia. Ho comunque appoggi sia a Milano che a Roma. Ho cominciato la mia carriera artistica come comico negli Zelli Club di Torino con dei pezzi scritti da me. Attualmente lavoro come attore negli spot pubblicitari, ma ho anche interpretato diversi ruoli in cortometraggi e film. Vi mostro le mie mani. E i miei profili. Ciao, grazie.